Caro signor Conlago, se il nostro italiano è cattivo, è la colpa a Google, non a noi. Non possiamo affatto parlare italiano. Siamo la tua squadra di Praga, Valeria, Michele, Vladan e Pietro. Ogni giorno vendiamo lo spirito. La nostra passione, la nostra conoscenza e la convinzione che Conlago sia la bici più meravigliosa di tutto il mondo. Questo non è un lavoro, questo è una benedizione. È una missione per ciclismo più bello. Tutto grazie a te e al tuo team in fabbrica. Nel 2014 hai scritto questo sul nostro vol. Ci è piacerebbe invitarti di nuovo a Praga. Tanti auguri alla tua squadra di Praga. Oto a toto! Tanti auguri alla tua squadra di Praga.